Ciao, sono Enrica, coach dell'Accademia Online Bella in Forma per Sempre ed oggi sono felice di guidarti in questo allenamento Total Body in cui ti serviranno un tappetino e differenti carichi in modo tale da stimolare efficacemente tutta la muscolatura coinvolta. Ti ricordo che questo allenamento, come tutti gli allenamenti su YouTube, non è formulato in base alle tue specifiche necessità e per seguire il tuo programma di allenamento formulato in base alle tue caratteristiche ti invito a prenotare una sessione strategica gratuita per capire come l'Accademia può esserti d'aiuto per ottenere al meglio il tuo obiettivo. Trovi qui sotto il link per prenotarla. Ed ora insieme a me, pronta a partire! Grazie a tutti! 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 ! 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